La tigre del farweb che gioca a minecraft, pompa al volume che c'è Yook 4316 Ciao a tutti ragazzi sono Yook e benvenuti in questo nuovo episodio Questa volta siamo sul gioco tanto, molto, troppo atteso da voi GTA... di 5? 5 5, 5 GTA 5 ragazzi, si, GTA 5 l'ho preso per Xbox 360 Ho preso addirittura la A-Lite e dato la... quella lì ragazzi, la Special Edition La Special Edition, ma poi la Rockstar Game mi ha mandato l'altra copia normale Anzi, no, due Vabbè, fa niente, nella Special Edition ragazzi, oltre alla scatola di ferro Questa qui Oltre alla scatola di ferro e la mappa Non c'è nulla di più, eccetera, eccetera Dunque, andiamo al gioco ragazzi, vi ricordo E ora farò una partita giusto per farvi vedere il gioco Facciamo magari qualche corsa Vediamo cosa fare Ragazzi, un bacione e un abbraccio a tutti Da Yook e tutto Ciao a tutti, no sto scherzando Ci vediamo nel gioco Mi raccomando, ricordatevi come sempre il pollice in su Ci vediamo Trento il gioco Eccoci qua, eccoci qua Qui continuiamo In poche parole Dobbiamo portare Michael dal figlio Che è nei seri Noi problemi, il figlio Missione fallita Bene, ragazzi Sì, perché ho lasciato in pausa Il nostro corso combinato Ma ricominciamo In poche parole Ho giochicchiato un po' Ragazzi È gioco fenomenale Come da voi Già risaputo Ok, se non clicco là Non possiamo andare avanti Vi ricordo che appena possiamo Abbiamo tempo Faremo un video Io assieme al capopassone Dobbiamo inseguire il pollino blu Dobbiamo inseguire quel tir, credo Ragazzi È manualità Nelle macchine Vramente figa 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 Il gioco La guidabilità delle macchine Vramente figa La grafica Diciamo Abbastanza Ottima Ma non mi piace Sono sincero Come si spara No, devi sparare Anche se non Non fps Ok Allora Dobbiamo inseguire quella cazzo Un camion Con la barcola Che cavolo fa Stai giù Stai giù Dove vai Non mi ricordo quello Che cavolo fa Che cavolo Che cavolo Che cavolo Che cavolo Mi aiuto È caduto Ha fatto boom Rifacciamo la missione Rifacciamo la missione Ragazzi Credo che Il GGA5 Se ho tempo Farò qualche video Poi là Cazzesco Come al solito E soprattutto Magari Ci vado Live su Twitch Trovete i link In descrizione E seguitemi su Facebook Per sapere Orari Eccetera Eccetera Allora Dobbiamo seguire Quello del palcone Allora Cermando Che dobbiamo fare Che dobbiamo fare Io mi sto cercando In alto a sinistra E di più le In alto a sinistra Mi escono le missioni Le missioni Allora Stanno ripando In una banca Allora Capito In un uomo Mi sono ripianto A questo fuoco Devo Oh che lo spiaccio Fermati È caduto ancora Sì Uffa Sposto la telecamera Dall'altra parte Ragazzi Mi basta un clic Per spettarla Di là E siamo ancora qua Eccoci Allora Ok Così Di là a sinistra In alto All'altato Mi escono le missioni Le missioni Le missioni Ricordiamo Questo gioco È sviluppato Dalla Rockstar Game Dai 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 Allora La parte Slalom tra le macchine Attenzione 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 Ora Se questo qua Si sarebbe fermo In macchina Invece di uscire fuori Perché esce fuori Ma devo fermare il cagno Devo farlo salire sopra Deve lo fare Non riesco a leggere e guidare Nel stesso tempo Ehi se vuoi Non ho letto Cerca di un fuori Ok Perfetto Non posso fare un cazzo Dai sali Dove cazzo Casco Casco Dove cavolo vai Dove cavolo vai Dove casco vai Porca trota Cioè Ha fatto il tutto Boh 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 Hai visto Hai visto È caduto ancora Uffa Ce la farò Comunque ho capito ragazzi In poche parole È incondato Deve saltare sopra Beh Andiamo 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 Missione barcoide Accettata Partito Ultima prova Ultima prova La barca barcolla La barca barcolla Ma non molla Rimane appesa Dai Ora Dai Vabbè Non posso moscia Tieni di pronto Tieni di pronto Tieni di pronto Tieni di pronto Vai Ora Ora Già Nice Ce l'ha fatta Nice Premi B Per attivare L'avventuale dinamica Vediamo un po' Che succede Ah Sì Io non le guido Ah Guido da solo Perfetto Allora Buttalo giù Buttalo giù Non ci credo Hanno sparato Al motore Nice Dai Vai Vai Cosa stai facendo Picchialo Picchialo Tira gli capelli Tira gli capelli Non lo schiaffo Non lo schiaffo Non lo schiaffo Sali sull'alba Sessima parte Spagliata No Non lo schiaffo Che cavolo devo fare Sto sparando Chi sparo Ah ma forse Devo cambiare Scusami Forse Ok perfetto Così Uguale Uguale Come mi sono fallita No 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 Ragazzi Sono un nabbo Sono un nabbo Ma questo era GTA 5 Ragazzi Scusate per questo mini video Ma devo andare via Con mio figlio Infatti era già pronto E mi stava aspettando Vero amore Fai ciao Ciao Ragazzi Un bacione Un abbraccio Credo che questo gioco Lo continuerò Molto probabilmente In live Almeno non ho tempo Da perdere Per renderizzare Registrare eccetera Lo faremo su Twitch Trovate il link in descrizione Pollici in su Come al solito Un bacione Un abbraccio E mi devo rifare la missione Ciao a tutti